3 ottobre 1935. Sono le 5 del mattino. Dall'Eritrea, 110.000 soldati italiani, guidati dal generale De Bono, varcano il confine e invadono l'Etiopia. È l'inizio di una guerra annunciata il giorno precedente da Benito Mussolini. Una guerra che porterà l'Italia, paese aggressore, ad essere sanzionata dal Consiglio delle Società delle Nazioni il 18 novembre successivo. Il fatto nuovo avviene nel 1935, quando Mussolini decide che l'Italia avrebbe dovuto avere un possedimento coloniale degno del proprio prestigio e delle tradizioni imperiali dell'antica Roma. La Francia e l'Inghilterra avevano imperi immensi. L'Italia non aveva che la Libia, le isole dell'Egeo, la Somalia e l'Eritrea. Mussolini mette gli occhi sull'Etiopia, alla quale l'Italia deve far pagare l'antica sconfitta di Adua. Il pretesto per la conquista gli viene offerto da una serie di incidenti di frontiera ai confini con la Somalia. Mussolini sostiene che l'Etiopia vuole cacciare gli italiani dalla colonia. Pochi giorni dopo, due battaglioni partono per l'Africa orientale, dove il 7 marzo è inviato anche il generale Rodolfo Graziani, cui spetterà il compito di guidare la conquista partendo dalla Somalia. Con rapidità altre divisioni sono imbarcate e attraversano il Mediterraneo. La Società delle Nazioni, di cui fa parte anche l'Etiopia, interviene ma non può fare altro che condannare l'Italia come stato aggressore. L'imperatore d'Etiopia aveva sperato in un aiuto un po' più concreto da parte delle potenze, ma nessuno vuole rompere decisamente con l'Italia. Alla fine la Società delle Nazioni decide il blocco delle materie prime contro l'Italia. Sono le sanzioni economiche. In realtà le potenze si comportano proprio come Mussolini aveva sperato. Continuano a rifornire l'Italia di benzina e l'Inghilterra consente il passaggio delle navi italiane, dirette in Africa orientale, attraverso il canale di Suez. Un altro tentativo di fermare l'Italia viene fatto dal ministro degli esteri inglese, Anthony Eden, che viene a Roma a proporre un compromesso. È tutto inutile. Il Comando Supremo dell'Impresa per la Conquista dell'Etiopia è affidato in principio al generale Emilio De Bono, uno dei quadrunvili della marcia su Roma, che dopo breve tempo è sostituito dal capo di Stato Maggiore, maresciallo Pietro Badoglio. La conquista comincia il 3 ottobre del 1935, quando 250.000 uomini passano il confine Eritreo e Somalo puntando verso il cuore dell'Etiopia. Dovrà essere una guerra lampo, da concludere prima che la società delle nazioni possa intervenire più risolutamente contro l'Italia. Il primo balzo è rapido. In pochi giorni sono conquistate Adwa e Aksum, la città santa della chiesa Copta, famosa per i suoi antichi oberischi. Ma subito l'avanzata rallenta. Cresce la resistenza etiopica, ma soprattutto bisogna aprirsi la strada in zone impervie, poco note, senza strade. Le truppe italiane sono costrette a procedere aprendosi una pista, approntando strade camionabili.